mantero qualcun altro non ha votato frusone mi pare che abbiano votato tutti dichiaro chiusa la votazione 337 favorevoli, 4 contrari, la camera approva adesso il 5.200 da votare senza l'articolo 86,4 se ci danno i pareri il relatore e il governo favorevole bene, se non ci sono interventi su questo emendamento lo poniamo in votazione, dichiaro aperta la votazione taricco bolognesi iacono ancora bolognesi Tancredi 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 ha votato mi pare che abbiano votato tutti dichiaro chiusa la votazione 341 favorevoli, 2 contrari, la camera approva votazione dell'articolo 5 se non ci sono interventi lo pongo in votazione e dichiaro aperta la votazione Giacomoni Giacomoni chi altro non riesce a votare dichiaro chiusa la votazione 356 favorevoli, 1 contrario, la camera approva votazione dell'articolo 6 se non ci sono interventi lo pongo in votazione dichiaro aperta la votazione Giacomoni